Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme nelle scorse settimane. Una ritrovata unione che ha suscitato parecchie reazioni positive nei rispettivi followers e, sicuramente, nel piccolo Santiago. Ma cosa ha fatto Stefano De Martino? Quale dettaglio emerso in una Instagram Stories farà sciogliere Belen Rodriguez? Ecco che cosa è accaduto nelle ultime ore. Belen Rodriguez e la scoperta su Stefano. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti e innamorati nel 2012, quando il conduttore televisivo all'epoca era uno dei ballerini professionisti nella scuola di amici di Maria De Filippi. Un amore travolgente con la coppia che è convolata a nozze il 20 settembre del 2013. Ad aprile dell'anno seguente Belen ha anche dato alla luce il piccolo e bellissimo Santiago. Il loro idilio d'amore, però, terminò presto e nel 2015 decisero di separarsi. Belen ha avuto diverse storie dopo la loro separazione anche una figlia, Luna Marie, con l'airstylist Antonino Spinalbese ma nelle ultime settimane ha ritrovato l'amore con il suo Stefano. Ma che dettaglio è emerso nelle ultime ore? Cosa ha combinato Stefano De Martino? Il dettaglio. Stefano De Martino è impegnato in queste settimane nella conduzione del Team Summer It's 2022. Un evento di musica live in sei puntate fra Roma in piazza del Popolo Porto Piccolo, in provincia di Trieste, e Rimini. L'evento si è già svolto a Roma e Porto Piccolo, mentre il primo e il 2 luglio si terrà a Rimini. Nella serata del 30 giugno è andata in onda, indifferita, la prima delle sei puntate. Stefano De Martino è alla conduzione insieme alla splendida Andrea De Logu. Il compagno di Belen ha pubblicato su Instagram alcune stories con lui impegnato al pianoforte durante l'esibizione di LDA con il brano Quello che fa male. Un video molto valido artisticamente, ma che ha colpito anche per un dettaglio che non è passato inosservato. Infatti, sulla mano di Stefano De Martino impegnato al pianoforte è apparsa la fede. Un segno inequivocabile del rapporto ritrovato con la showgirl argentina. Nelle settimane scorse anche Belen era stata vista indossare nuovamente la sua fede. Il rapporto fra loro è tornato ad andare a gonfie vele per la gioia dei rispettivi followers. De Martino sta vivendo davvero un momento magico, sia nel lavoro che nella sua vita privata. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.